Buonasera ai nostri telespettatori per i ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di un tema specifico con il nostro ospite che è il sindaco di Chieti Diego Ferrara, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera sindaco. Buonasera, grazie a lei. L'abbiamo chiamata qui nei nostri studi per parlare più in generale di come si sta trasformando il centro di Chieti dopo la riapertura di Piazza San Giustino, una serie di interventi che sono legati proprio a quella zona. Ed in particolare dell'ultima novità, quella dei giorni scorsi che avete affrontato con un vertice tra varie istituzioni e rappresentanti soprattutto delle realtà coinvolte in una idea che è diventata progetto e che potrebbe diventare di realtà nel giro di pochi anni della nascita di una vera e propria cittadella giudiziaria a Chieti nell'ambito, sempre nella zona di prossimità del Tribunale, nell'ambito di finanziamenti PNRR, di incentivi vari e anche più in generale dal punto di vista strategico della maggiore dotazione di parcheggi e riattivazione o attivazione di nuove infrastrutture per la mobilità pedonale in questo caso, oltre che naturalmente automobilistica. Allora, Sindaco, il progetto in generale, l'idea nel complesso e poi nello specifico questo progetto che appunto avete illustrato in questi giorni? Sì, grazie. Allora, diciamo che il Palazzo di Giustizia, costruito tra il 1922 e il 1931, nei decenni successivi, ha mostrato una diminuzione della capacità logistica e quindi degli spazi dovuta all'aumento delle udienze, del numero delle udienze e anche della qualità e importanza delle udienze stesse. Noi abbiamo, gli uffici comunali hanno redatto un progetto di cui stiamo guardando adesso i disegni, nell'inverno del 2022, nominando questo progetto la cittadella giudiziaria. In pratica consiste in una riqualificazione dell'edificio che si trova in via Arnienze e che ha rappresentato il vecchio ospedale, il primo ospedale di Chieti costruito nella metà del 1800, attualmente di proprietà della provincia e della ASL, è una ristrutturazione di questo stabile che è di 2306 metri quadri che dovrebbero essere adibiti ad uffici e a sale riunioni. Più un corpo nuovo che stiamo vedendo di lato dalla prospettiva di via Silvino Livieri, un nuovo corpo costruito in piazza Rocchetti di 1800 metri quadri. Gli edifici, questo nuovo, quello di via Arnienze, il vecchio ospedale ristrutturato e il palazzo del tribunale, saranno uniti da ponti elevati per un totale di circa 7000 metri quadri utili per uffici, sale uglienze, sale multifunzione. Ora diciamo che questo progetto è nato non solo dalla esigenza quindi fisiologica di un aumento di spazi per il tribunale di Chieti, ma anche in prospettiva dell'attuazione del decreto legislativo 155 del 2012 che attuava l'articolo 1 della legge 148 del settembre 2011 indicando un riordino funzionale e logistico delle sedi dei tribunali nelle province e conseguentemente la possibilità di un accorpamento di tribunali minori della provincia in quello più grande di Chieti. Quindi questo progetto nasceva con tanti obiettivi, quindi non solo quello di aumentare la logistica ma anche di mantenere una importanza nevralgica di tipo diciamo professionale e anche di affluenza di persone nel centro di Chieti. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Quali sono le fonti di finanziamento soprattutto chi si è battuto per ottenere questa insomma anche fattibilità di quello che è stato un progetto sulla carta che invece vediamo in questi giorni sta proprio avanzando? Le fondi di finanziamento sono diverse. Oltre al PNRR ci sono fondi proprio prettamente di pertinenza del Ministero di Giustizia. Quindi tra l'altro importanti esponenti del Ministero sono venuti un paio di volte a Chieti a fare dei sopralluoghi e hanno trovato questo progetto che noi abbiamo presentato veramente ottimale e anche fondamentalmente economico. Poi è accaduto che nel settembre del 2022 senza che il Comune avesse avuto una comunicazione istituzionale ufficiale abbiamo saputo che il Ministero di Giustizia aveva iniziato delle trattative per una compravendita dell'ex ospedale San Camillo proprietaria della ASL e chiuso definitivamente nel 2007 e noi ci siamo meravigliati di questo perché fondamentalmente adesso al di là dei costi che sarebbero sicuramente superiori a quelli della ristrutturazione di cui il nostro progetto in pratica per l'acquisto dell'ospedale San Camillo e la sua ristrutturazione non basterebbero almeno inizialmente 37 milioni di Euro mentre per il nostro progetto ce ne vorrebbero la metà. Ma al di là di questo il punto fondamentale per il quale ovviamente io personalmente e la mia amministrazione si batterà è quella di non far delocalizzare ulteriormente un bene della nostra città non perché via Forlanini sia estrema periferia ma sicuramente la permanenza nel centro cittadino e soprattutto nella piazza rinnovata di San Giustino con i tre poteri quindi religioso della giustizia e quello civile del comune sarebbe la posizione migliore e sicuramente Chieti non verrebbe espogliata dell'ennesima funzione come è stato per le caserme, come è stato per la Banca d'Italia, per la Camera di Commercio e quant'altro. Allora Sindaco, tutto bello però adesso io vorrei fare la domanda a quella dell'Avvocato del Diavolo. Dove si parcheggerà la macchina perché vogliamo riportare le cose in centro, vogliamo avere anche una situazione però ordinata dal punto di vista di quello che è il problema principale che vive la città da decenni non è certo un tema che è sopravvenuto negli ultimi anni. Quali sono le opere che poi rendono veramente funzionale e raggiungibile per gli operatori e per i cittadini questo nuovo polo giudiziario? La ringrazio per questa domanda perché mi dà la possibilità di fare una volta per tutte chiarezza su questo argomento sul quale tantissimi cittadini chiedono anche attraverso i social che cosa accadrà e quali siano i tempi. Ora noi attraverso fondi del PNRR che abbiamo intercettato, ricordo ancora una volta che una città piccola media come Chieti ha intercettato ben 60 milioni di PNRR per la rigenerazione della città, del centro storico e saranno utilizzati per la costruzione di un parcheggio multipiano in via Ciampoli al ridosso quindi del tribunale e siamo nelle fasi conclusive, abbiamo avuto anche la approvazione del corpo forestale dello Stato e quindi saranno 300 posti macchina proprio al ridosso del tribunale. Più in autunno partiranno i lavori per il parcheggio ipogeo di Piazza Garibaldi con altri 250-300 posti macchina. A breve riprenderanno i lavori per la sistemazione di Piazza Falcone Borsellino, cioè il terminal degli autobus dove insisteranno sia gli autobus delle linee extraurbane sia quelle del trasporto locale per cui si libereranno 60 posti macchina in largo cavallerizza. Oltre a tutto questo riprenderanno a breve i lavori per la ricostruzione della scala mobile e sempre con gli stessi tempi, quindi diciamo che i tempi di scadenza del PNRR sono… Io volevo chiedere, ma questi tempi la preoccupano di più oppure la confortano in qualche modo? No, a me confortano anche perché quando hai un termine ovviamente gli uffici devono lavorare con questo obiettivo irrinunciabile. I tempi sono, i termini sono fine inverno, inizio primavera del 2026, ovviamente con scadenze non tutte collimate, quindi molto probabilmente la scala mobile sarà pronta per l'estate del 2025 e le altre opere a seguire e anche, e questa è la risposta alla quale molti cittadini mi fanno la domanda, e cioè quello dell'ascensore che ha subito dei ritardi a causa del fallimento di teatro e servizi, la reinternalizzazione del servizio parcheggi a cui è collegato dentro il comune, adesso abbiamo fatto, stiamo facendo la gara europea per la concessione del ramo d'azienda dei parcheggi e di conseguenza il chi, l'agenzia, la ditta che prenderà in concessione i parcheggi rimetterà in funzione che sostanzialmente però è già finita, è già pronta quest'opera, deve solo essere accesa insomma. Deve essere solo accesa perché abbiamo avuto. Guardi, io le do soltanto due minuti di tempo perché sta scadendo, però per spiegare anche ai nostri telespettatori come è possibile che un comune che ha una situazione così difficile dal punto di vista finanziario comunque riesca a progettare queste opere, perché queste due cose sono in contrasto apparente tra di loro? Sono solo in apparente contrasto, noi siamo in una condizione finanziaria che tutti conoscono che è quella derivante dal dissesto finanziario per cui abbiamo i commissari in comune che stanno gestendo i rapporti con i creditori nei confronti del comune, quindi abbiamo delle finanze estremamente limitate per le quali non riusciamo a fare opere di manutenzione normale, quindi le buche delle strade, gli sfalci e quant'altro. Lo facciamo con grande fatica prendendo soldi dai fondi dal fondo di riserva quando si presentano proprio delle emergenze. I soldi del PNRR sono finalizzati e sono tutt'altra cosa. Io devo dare onore ai nostri funzionari, ai nostri dirigenti, ai nostri dipendenti del comune che si fanno veramente in quattro per portare a termine questi progetti nei tempi stabiliti. Io credo che, non spero, sono sicuro che nell'arco di un paio di anni la fissionomia di questa città e l'economia conseguentemente alla accessibilità cambierà completamente. Bene, grazie Sindaco Diego Ferrara di questo approfondimento che però mi sembra sia interessante perché riguarda il cuore della città e anche un progetto strategico di grande rilievo. Grazie per aver accolto il nostro invito e appuntamento al domani sempre con il Fatto. Arrivederci, buona serata. Grazie.